Ce l'avevamo sentiti qualche tempo fa dicendo che finalmente si mette un po' di ordine a questo caos. In realtà il caos, almeno al momento, sembra averla vinta. Pare di sì, perché tutte le regioni in Italia hanno recepito una direttiva che prevedeva di vietare nei 30 giorni antecedenti saldi le vendite promozionali. Io avevo anche accolto positivamente questo provvedimento perché cominciava a mettere ordine in un settore, quello del commercio, che ormai era stato un po' molto condizionato dalle vendite promozionali, dai saldi. Ci sono negozi che sono tutto l'anno praticamente o in vendita promozionale o in saldo. Questo chiaramente danneggia il commercio, ma soprattutto, secondo me, danneggia anche la credibilità del commercio. Quindi avevamo accolto positivamente questo provvedimento, ma poi, come spesso accade in Italia, le deroghe hanno la meglio su tutto e alla fine, purtroppo, è venuto fuori un caos. Sì, perché leggendo i quotidiani di oggi si vede che prima c'è stata la deroga per la shopping night, poi a Riccione con i big weekend, quindi tre weekend addirittura di deroga, e poi allora Rimini ha detto, ma noi siamo da meno, allora ulteriori deroghe sono state chieste e a questo punto sembra che sia necessario rimettere mano a questa regolamentazione il prima possibile, anche perché le stesse categorie avevano chiesto più chiarezza. Sì, sì, voglio dire, noi non è che facciamo la gara sui nostri amici e cugini di Riccione, ma è evidente che se a Riccione sono previste vendite promozionali per tre weekend, non si capisce perché a Rimini i nostri commercianti a pochi chilometri di distanza non possono fare lo stesso modo. Verrebbero penalizzati, quindi a questo punto, visto che le deroghe sono state concesse a Riccione per tre weekend, la stessa cosa è stata chiesta da Rimini. Mi rendo conto che così facendo però è stato vanificato completamente l'intendimento della direttiva. So che anche l'assessore Corsini ha detto, insomma, così non si può andare avanti, dobbiamo metterci mano al più presto. E però la direttiva è venuta dalla Regione, la Regione aveva intrapreso un certo percorso dopodiché, come dire, questo percorso è stato vanificato con queste deroghe. Noi inizialmente avevamo chiesto la deroga per la Rimini Shopping Night, si trattava di una serata all'interno di un cartellone di eventi del Capodanno più lungo del mondo. Ripeto, era una serata, ma se le deroghe cominciano ad essere tutti i weekend, ripeto, non è che io a Rimini posso mettere nelle condizioni commercianti di avere un trattamento diverso da quello di Riccione, anche perché siamo talmente vicini che se un riminese poi vuole fare acquisti rischia di andare a Riccione piuttosto che a Rimini. Questo regolamento, se non sbaglio, non prevedeva però delle sanzioni o sì? Ecco, questa è un'altra contraddizione, perché se ci sono dei divieti, chiaro che questi divieti hanno un senso se sono previste delle sanzioni. Ieri l'assessore regionale ha detto che non si può sanzionare l'eventuale commerciante che non rispetti questo divieto. Come dire, non ha senso una cosa del genere. Siamo in difficoltà, siamo in difficoltà noi come amministratori comunali con questa situazione, ma lo sono ancora di più i commercianti. In un momento che è già delicato per una congiuntura economica che ben conosciamo, queste incertezze creano danno al commercio, ai nostri commercianti. Questo io non lo posso accettare ed è per questo che abbiamo chiesto queste deroghe alla Regione per le giornate del 16, 17, 18 dicembre, il 22, 23, 24, il 29, 30, 31 e il 4, 5 gennaio. Mi rendo conto che a questo punto le giornate in deroga sono praticamente più di quelle in cui vige il divieto. Quindi diciamo che in questo modo si cerca di riequilibrare la situazione anche rispetto alle realtà vicine, con l'obiettivo però di cercare di mettere queste regole e magari anche delle sanzioni. Perché ricordo ci eravamo detti a suo tempo il Comune avrebbe fatto partire dei controlli proprio nel mese di dicembre, ma a questo punto anche controlli quando non è possibile sanzionare diventano anche inutili. Sì, noi ci siamo trovati spiazzati, noi come Comune di Rimini, ma ritengo tutti i comuni della Regione Emilia-Romagna, perché ripeto, questa direttiva vale da Piacenza fino ad arrivare a Rimini. Capite bene che i comuni sono in grande difficoltà nel momento in cui la Regione prima emana una certa direttiva e poi ci dice ieri che di fatto i divieti non possono essere sanzionati, le eventuali infrazioni ai divieti. Quindi si è creato un caos, a me dispiace tanto perché siamo rimasti tutti un po' vittime di un provvedimento che alla fine è stato molto confusionario. Diciamo che è meglio lasciare passare adesso questo periodo di festa e poi magari risedersi intorno a un tavolo per cercare di capire come muoversi, perché altrimenti la vicenda diventa veramente paradossale. Noi ci sediamo come Comuni volentieri attorno a un tavolo, anche perché noi questa direttiva l'abbiamo appresa dall'oggi al domani qualche settimana fa, le Regioni, ripeto, non solo la Regione Emilia-Romagna, tutte le Regioni italiane hanno deciso di intraprendere questa strada, ma noi come Comuni l'abbiamo appresa senza una concertazione, senza nulla. Questo provvedimento è stato preso in accordo con le associazioni di categoria che inizialmente erano favorevoli, ma poi loro stessi probabilmente si sono rese conto che questo provvedimento scontentava molti.